preferisco però quel tipo di... eh sì... no tu... no... è bravo ecco la calabara, non sei per l'indirà, non sei per l'indirà perché cosa, scusa? ecco la calabara, non sei per l'indirà, non sei per l'indirà prego ripetimelo ancora una volta ecco la calabara, non sei per l'indirà, non sei per l'indirà la mia pronuncia in inglese non è proprio il massimo ma se non sbaglio si pronuncia va benissimo lo dico e qui lo nego, i dialoghi sono stati scritti con il culo